7 cose che accadranno subito dopo aver cominciato a mangiare miele tutti i giorni L'uomo consuma il miele da millenni. Questo gustoso, dolce e nutriente prodotto naturale offre numerosissimi benefici per la nostra salute, e può aiutarci a prevenire e trattare molte condizioni di salute. Di seguito ti suggeriamo i principali benefici del miele. Anniossidanti. Parte delle tossine del nostro organismo possono essere eliminate con il miele. Se mangiato ogni giorno, il miele ci permette di migliorare l'aspetto di pelle e capelli, ma anche a migliorare lo stato d'animo. Il miele d'api, pur essendo molto dolce, ci aiuta ad accelerare il metabolismo e a perdere peso. Tuttavia, non bisogna abusarne. Colesterolo. Gli antiossidanti contenuti nel miele d'api hanno proprietà capaci di ridurre il colesterolo, proteggendo il cuore. Memoria. Il miele d'api, oltre a combattere lo stress e l'ansia, ha un effetto antiossidante nel cervello e ci aiuta ad avere una memoria più efficace. Sonno. Lo zucchero del miele aumenta l'insulina nel sangue, rilasciando la serotonina responsabile della produzione di melatonina. Questutilissima ha una funzione importantissima, ci aiuta a prendere sonno e a dormire profondamente. Digestione. Se abbinato ad un bicchiere di acqua tiepida, il miele può favorire la depurazione di stomaco e intestino. Questo gustoso ingrediente ha proprietà antisettiche, che possono lottare contro i batteri presenti nell'intestino. Si suggerisce di includere un cucchiaio di miele nella nostra dieta quotidiana, meglio se fatto sciogliere in un bicchiere di acqua tiepida. Ciao!